ah ma allora ci sei, guarda che ti ho chiuso qua dentro perché ho fatto spaventare troppe persone mi dispiace chi? chi vuoi far spaventare? no no è una cattivissima idea Fidel però adesso che ci penso non è niente male dai mi hai convinto andiamo questo è il caso non è bene Non c'è un po' per favore Non lo vieni a fare! E' come che ho visto che non lo vieni a fare! Ma non è stato mio! Ma non è stato mio! Ma che gli stai? Che lo sai facendo! Mamma mia! Non lo vieni a fare! Mamma mia! Ma non lo vieni a fare! Mamma mia! Non lo vieni a fare! Mamma mia! Non lo vieni a fare! Ofra. Non lo vieni a fare! Mamma mia! Non lo vieni a fare! Non lo vieni a fare! Non lo vieni a fare! Non lo vieni a fare!